ragazzi buongiorno domenica 21 ottobre 2018 siamo con ferdinando mio figlio maggiore e stiamo facendo un po di light rock fishing mare una tavola stupendo si vede anche il fondale più tardi vi farò vedere una cosa spettacolare è pieno pieno di medusa di questa specie la pelagia noctiluca che non ci credete mai andremo a prendere e cucinare più tardi vi farò vedere come cucinare e come mangiare sono buonissimi ecco mio figlio ferdinando che pesca le meduse con retino vedete ne abbiamo preso è bravissimo tre sono addirittura per di tre nei presi dai come promesso più tardi faccio vedere dopo che ne raccogliamo un po come le cucino io il risultato eccellente ragazzi mio figlio ferdinando oggi si conferma un grandissimo pescatore di meduse deve apprendendo con retino qua di tua prese 4 insieme che andrà a mettere sempre in questo sacchetto già ce ne sono abbastanza se un giorno le volete provare prendete abbastanza perché poi come le cucinerò io diventano molto più piccole di dimensione poi verrà vedere salute saluta agli amici di youtube verdi ragazzi alla fine la pescata andata diciamo abbastanza bene ferdinando ha preso questi bellissimi sparaglioni uno scorfano una donzella pavonina una donzella più piccolina questa bellissima triglia qua e poi due tordi uno scerrano e adesso passiamo passiamo alle meduse come vi dicevo vi faccio vedere intanto come si puliscono come le pulisco io e poi come come le cucino e le mangio allora ragazzi qua abbiamo la nostra medusa come come vi dicevo dobbiamo pulirla dei tentacoli tutta la parte evidente è rosa e lasciare alla fine solamente l'ombrello praticamente che questa parte praticamente col vetro queste saranno quelle che andremo a sbollentare poi infarinare e friggere faccio vedere come si fa io lo faccio anche con le mani è un'operazione abbastanza semplice si infila sare tranquilli che se la medusa non tocca l'interno della mano magari tra le dita non giustionerà dovete levare i tentacoli in questo modo un po di bruciore sempre si prova però non è non è particolarmente fastidioso anzi questa è una delle meduse più urticanti del mediterraneo poi con l'aiuto di un ausilio di un coltello di un cucchiaino andiamo a levare tutte queste parti in rosa in modo che le le meduse diciamo rimarranno così abbastanza bianche e pulite vedete continuiamo questo lavoro con tutte le meduse i tentacoli vi consiglio di mettere un piatto a parte poi li butteremo molte persone anzi non molte persone per quello che ho potuto trovare su internet alcune le friggono con tutti i tentacoli alcune persone io preferisco farle così anche perché ho visto un video di un subacqueo di un pesca sub che le prende le fa con lo zenzero adesso non ricordo il nome di questo di questo ragazzo ma ma sicuramente sono cercate su internet meduse allo zenzero lo cercate ed lui fa una ricetta diversa quella che faccio io io faccio fritta lui le fa in questa specie di di succo con zenzero e altro allora ragazzi scusate il rumore sottofondo ma il mio picco sta facendo l'aerosol perché un po raffreddato questo è diciamo il risultato finale tutte le meduse pulite adesso andremo a mettere in una pentola semplicemente con l'acqua a temperatura ambiente le versemo qua e aspetteremo che l'acqua comincia a bollire appena comincia a bollire subito stacchiamo spegniamo il fornello e le mettiamo a parte come come dicevo le mettiamo a parte le facciamo scolare un pochettino appena saranno mescolate le infariniamo e le friggiamo l'acqua ha appena finito di bollire perché ho spento la pentola subito dopo la bollizione come vedete il loro diametro si è ridotto abbastanza con l'aiuto di questo arnesto a cucina ne andremo a scolare un pochettino scusate la qualità delle immagini ma faccio tutto con il cellulare anche devo ancora comprarmi una bella macchia fotografica come io ancora una piccola videocamera di vostri portanti di questo luogo ecco questo è il risultato finale come vi dicevo sono ridotte tantissimo il diametro l'ombrello si è ridotto e adesso andremo a infarinare e friggere ecco qua adesso andiamo a mettere le nostre meduse nella farina le nostre meduse bollite e le infariniamo per bene era meglio forse farle scolare un altro poco comunque alla fine infarinate per bene le butteremo le butteremo nell'olio caldo di una piccola padella ecco ecco qui olio ben caldo andiamo a mettere le nostre medusele rigiriamo rigiriamo le un po ragazzi appena hanno raggiunto questa doratura e questa croccantezza li andiamo a scolare in carta assorbente in questo caso io ho utilizzato un forzoletto e scendiamo ecco qua vedete sono diventate piccole 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 hanno un aspetto dorato e croccante salata leggermente eccoci qua ragazzi provare per credere ragazzi sono squisite hanno un leggerissimo sapore di mare croccanti sono squisite buonissime spero che il video sia stato di vostro credimento e che adesso magari se avrete a amare qualche medusa non avete più paura magari le raccogliete pure per mangiarle un bacione a tutti ciao ragazzi buonissima 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 buonissima